in un altro posto e non insisto amore in fondo la vita mia è una bottiglia che si scola e non mi serve ma mamma mia buongiorno 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 barletta oggi è 16 novembre domenica auguri a tutti i santi che festeggiano oggi non so che santo è perché non ho visto bene mi la vedete stamattina è una bellissima ciò che è il 16 novembre nonostante 16 novembre e vedendo quelle povere città che stanno attraversando un bruttissimo periodo livello di pioggia e cosi che vedi paio tutto il nord stecchi di chien mi dispiace veramente ragazzi io voglio dire solo questo che parli no sapevo c'è così ma parli che parli purtroppo si è la verità barlitti è bella barlitti ci si bella quando chiova solamente no ma parli che spetta una mattina è uno spettacolo veramente perché voleva andare alla città che il padre con la zappa le rubava questo siamo qui stiamo a franzo franzisco ma i miei mi sono pur rinchiusa in un convento tutti a fare i futi però poi fuggì dall'al di là oggi è domenica domenica c'è più possibilità di fare i futi perché non lavorano sempre bello sempre bello balla con l'abito corto rossa nella sera eh che bella canzone questa quando io sono solo con te questa la dedico ma fate persone ascoltatela bene è troppo bella ma che bello il momento vorrei salutare tutti i giocatori l'organizzatore Ruggero di Staso Pasquale Tumolo e tutti quanti Spezzaferro Gioennabam tutti del tc sport quando penso a te è una cosa veramente bella del tc sport ci si diverte poi c'è un arbitro molto ma molto particolare guardate che bello guardate niente niente dai basta vedere queste immagini e capire che cosa è parletta abbiamo una fortuna abbiamo il gargano al lato il mare che ha una tavola il mare è stupendo quando sono con te io mangio meglio perché non mi devo sfumare che dire dai mi piace io e tu me anche mangiamoci la braccia allora sei buona come ho mangiato la braccia 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 allora sei buona bracciolo e gambuggito e niente dai vi saluto vi voglio ricordare per quanto riguarda sempre l'albero di Natale siamo a buon punto ora di cercare il V16 ma siamo quasi alla fine da Barletta Veste dell'Urus ciao buona domenica